Brutto incidente nel pomeriggio di sabato 17 dicembre poco prima delle 17.30 sulla Favriasca all'altezza di Borgata Chiaravaglia. Una Mercedes classe A condotta da un uomo uscita di strada e dopo aver impattato violentemente e divelto il guardrail è finita nella roggia che costeggia la careggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo e San Maurizio Canavese, staff e sommozzatori, oltre alla Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo. L'uomo, dopo essere stato estratto dall'abitacolo, è stato affidato alle cure dei sanitari e successivamente è caricato sull'elisoccorso del 118 per il trasporto all'ospedale CTO di Torino. La dinamica del sinistro è al valio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea e dei carabinieri di Rivarolo giunti sul posto. Intervenuta anche il consigliere di opposizione in legna scandale. Grazie. 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 Grazie.